Io, Arcangelo Michele, difendo l'umanità e la Chiesa dal nemico, e desidero che ogni uomo apra il cuore e si converta a Gesù, come Gesù lo apre a ogni singolo uomo. Siete tutti importanti, infatti ad ogni essere umano viene affidato un angelo custode affinché lo guidi e lo custodisca, quando siete in pericolo o davanti a scelte difficili, il vostro angelo custode vi parla e vi consiglia nel vostro inconscio, ma molte volte i vostri cuori non sono aperti a Gesù e non sentite la presenza del vostro angelo custode che Gesù vi ha affidato. Sappiate che il vostro angelo custode prega sempre per voi e per la vostra salvezza. Il vostro angelo custode vi ama ed è sempre vicino a voi e quando voi pregate nostro Signore Gesù, il vostro angelo custode si rallegra e gioisce e prega insieme a voi. Io, Arcangelo Michele, per volontà di Dio, vi chiedo che il giorno 29 di ogni mese vi riuniate voi uomini e insieme ai vostri angeli custodi preghiate nostro Signore Gesù ed io, Arcangelo Michele, scenderò dal cielo e sarò lì in mezzo a voi e pregherò insieme a voi. L'Onnipotente mi ha mandato per proteggervi.